Anticipazioni Beautiful, Bill supplica Katie ma lei lo butta via. Puntata intera del 7 febbraio 2024. Benvenuti nel nostro canale. In questo nuovo video vi daremo una anticipazione di quanto accadrà in futuro nella SOP. Vi preghiamo però di supportarci mettendo mi piace al video ed iscrivendovi al canale. Da brava Forrester, Steffi è ancora impressionata dalla tregua tra Brooke e Taylor. Finn risponde che vorrebbe applaudirle ma è preoccupato per Sheila. Steffi vorrebbe inseguire Sheila, ma Finn ritiene che sua moglie sia rimasta in uno stato di shock dopo l'incontro ravvicinato con la fuggitiva. Finn e Steffi sono sorpresi quando arriva il vice capo Baker che porta con sé alcune immagini di Sheila. Steffi lo inforna che Deacon non riesce a trovare nulla nella telecamera e Baker aggiunge che non si fida affatto di Deacon e la polizia ha verificato le telecamere di sicurezza degli esercizi. commerciali nelle vicinanze del luogo esatto dove Sheila è stata avvistata. Baker precisa che un locale poco distante ha delle immagini di Sheila che esce dal giardino e sembrerebbe proprio Sheila. Baker mostra a Steffi una foto che conferma che si tratta della donna con cui è entrata in collisione. Baker afferma che la scienza forense ha confermato al 98%, tramite il riconoscimento facciale e una scansione della retina, che quella donna è Sheila. Steffi si agita quando Baker mostra a lei e Finn la foto segnaletica di Sheila e un primo piano della donna che esce dal giardino. Su entrambe le immagini ci sono diverse indicazioni di confronto. Baker conferma che Sheila è viva. Baker informa a Steffi e Finn che le immagini delle telecamere di sicurezza sono state utili. Mentre distribuisce altre foto, Baker mostra loro il veicolo rubato che Sheila ha procurato. La polizia ha persino il numero di targa. Dice che è solo una questione di tempo prima che venga arrestata. Mentre Baker dice che consegnerà le foto anche al capo della sicurezza di Steffi, riceve una chiamata da un agente in auto. L'agente sta seguendo Sheila. Baker mette la chiamata in viva voce. L'agente non ha ancora chiamato la stazione perché Sheila potrebbe monitorando le frequenze radio della polizia. Attraverso il viva voce, Steffi e Finn sentono l'agente accendere la sirena della polizia. Sulla strada, Sheila vede le luci blu nel suo specchietto retrovisore e pesta a fondo sul pedale dell'acceleratore. Nell'ufficio di design, Eric arriva per parlare con Carter di ciò che ha sentito da donna riguardo alla storia tra Carter e Katie. Eric afferma senza remore che Katie è molto importante per lui e non vuole che sia ferita. Carter dà il canto su afferma che vuole solo ciò che è meglio per Katie, e di certo non è Bill. Eric sottolinea che in passato Katie ha già cercato di andare oltre lasciandosi alle spalle la storia con Bill. Ma secondo Eric stavolta le cose potrebbero andare diverso perché Will è più grande. Carter non vuole che Bill consideri Katie come un suo oggetto da prendere e lasciare a suo piacimento, ma vorrebbe che Katie non dubitasse mai di lui. Eric invita Carter a trascorrere il Natale in Villa dai Forrester. Eric specifica che Katie è sulla lista degli ospiti, ma Bill ovviamente no. Carter rivela a Eric che Katie è con Bill in quel momento. Eric afferma che Bill farà di tutto per riavere Katie. A casa di Bill, Katie gli dice che avrà sempre cura di lui. Bill la invita a riflettere su una loro eventuale relazione. Sembra disperato? Secondo lui Katie non ha idea di quanto lui ha bisogno di lei e viceversa. Katie gli risponde che hanno già parlato di questo. Bill chiede se può darle qualcosa prima che risponda. Lei dice che non ha bisogno di nulla. Ma lui le chiede se può portare lei e Will in una crociera di una settimana sulla stella Maris. Dice che Will ne sarebbe felicissimo e che potrebbero essere uniti come una famiglia. Bill sa che lei lo vuole e dice che lui lo vuole anche di più di quanto si possa immaginare. Bill pensa che la crociera potrebbe durare per settimane o mesi. Bill dice a Katie che lei è ancora sua e che lui è stato alla deriva senza di lei. Insiste sul fatto che ha bisogno di lei come mai prima d'ora. Katie pensa che Bill si senta solo. Lui le risponde che anche se non è da lui deve ammettere che si sente solo come se stesse perdendo se stesso. Katie chiede se indossare quella collana lo riporterà davvero dove deve essere. Piangendo, Bill le chiede di aiutarlo e di ancorarlo. Lei risponde che non può farlo. Anche lei inizia a piangere e gli confessa che lui non può aggrapparsi a lei. Katie gli ricorda che ora Bill crede di aver bisogno di lei, ma ha anche detto in passato di aver bisogno di Brooke. Bill dice singhiozzando che lei non lo sta ascoltando e lei implora di stare con lui perché ne ha bisogno. Katie chiede di cosa avrebbe bisogno lei. Secondo Katie, Bill dovrebbe passare del tempo da solo sul suo yacht per ritrovarsi. Estrae il telefono e chiama qualcuno affinché vada a prenderla. Poi urla che è stato un errore essere lì. Bill supplica Katie di non andare via. Dice che non può sopportare di stare da solo in casa o stare senza di lei. Le dà ragione quando non lo considera una brava persona. Katie gli ordina di smetterla di dire cose del genere specificando di non ritenerlo una persona cattiva. Bill afferma che non lo è quando ha Katie che lo guida. Giura che getterà via la collana se torneranno insieme, perché se l'avesse con sé non ne avrebbe più bisogno. Bill toglie la collana e la mette nella mano di Katie. La invita a farci quello che vuole perché a lui interessa solo Katie e lui sarà felice solo se lei resterà al suo fianco per sempre. In seguito, Bill cerca di convincere Katie a cancellare il passato e a parlare di più, ma lei ritiene che abbiano già detto tutto. Bill non concorda e promette di essere l'uomo di cui lei ha bisogno. Katie chiede cosa accadrebbe se gli credesse e lui le facesse del male di nuovo. Bill giura che quei giorni sono finiti e che sarà l'uomo che lei desidera. Qualcuno bussa alla porta e Katie afferma che il suo amico è lì. Carter entra nella stanza. Katie lo ringrazia per averla raggiunta e lui le risponde che non è un problema. Carter fa un cenno di saluto a Bill che intanto chiede a Katie di non fargli questo e aggiunge che lei appartiene lì con lui. Katie rimette la collana con la spada nella mano di Bill e gli dice addio mentre se ne va via con Carter. Bill si inghiozza, rimettendo la collana con la spada al collo. La sua espressione del volto si fa cattiva.